Buongiorno cari telespettatori di FanoTV, sono le 7 in punto, noi siamo qui tutte le mattine dal lunedì al sabato per Occhio ai Giornali, per mostrarvi le notazie principali sul resto del Carlino e Corriere Adriatico, naturalmente all'interno dei giornali ce ne sono tante di più, noi vi facciamo vedere le principali, però guardiamo anche il tempo, le previsioni e anche il Santo del Giorno con il calendario, allora partiamo proprio da qui, guardiamo che cosa recita per oggi sabato 24 agosto l'Almanaco, oggi è San Bartolomeo Apostolo, il sole è sorto alle 6 e 21 e tramonterà alle 19 e 59, previsioni del tempo che sono un po' all'insegna della variabilità, ve lo dico subito, non saranno giornate di pieno sole come quelle che abbiamo passato nelle settimane passate, quindi vedete cielo irregolarmente nuvoloso, alternanza di schiarite, poi altre nubi, insomma vedete sulla costa c'è una presenza alternata di sole e nubi, mentre sui rilievi vedete che compare la simbologia della pioggia e anche dei temporali, quindi saranno presenti le precipitazioni nelle ore centrali della giornata e anche nel pomeriggio anche a carattere di rovescio e di temporale, le temperature saranno in lieve diminuzione, anche per domani possiamo dire praticamente una giornata fotocopia su quella di oggi, almeno sulla carta e questo è quello che ci propone la protezione civile delle marche, il cielo quindi poco nuvoloso in mattinata con aumento della copertura però nelle ore centrali e quindi ci saranno precipitazioni come oggi sui rilievi nel pomeriggio sparsi sulle zone montani e collinari ad evoluzione diurna, quindi nella parte della giornata. Temperature in diminuzione nei valori minimi, quindi scenderanno ancora un po' le temperature, il mare sarà mosso quindi non sarà proprio da farsi un bagno al mare. Per lunedì ugualmente, questo è il quadro che ci viene proposto, cielo sereno, poco nuvoloso però aumento della copertura e della nuvolosità nel pomeriggio, soprattutto nelle parti centrali della regione e anche per lunedì sono date precipitazioni e rovescio a carattere temporalesco nel pomeriggio, nelle zone interne però nella serata questi fenomeni andranno in esaurimento. Le temperature sono stazionari invece per quanto riguarda la giornata di lunedì. Vediamo cosa ci dice in prospettiva il meteo, inizio della settimana prossima, quindi all'insegna di una debole instabilità nelle zone interne per il possibile consolidamento di un debole promontorio anticiclonico, quindi avremo questa formazione anticiclonica che entrerà nel nostro quadrante e quindi cambierà un po' il tempo. Bene, è spettata la parte meteo della rassegna stampa, andiamo subito, vi porto nelle pagine dei giornali, come sempre partiamo dalle pagine di apertura, guardiamo il Corriere Adriatico, il vecchio hangar è indietro, questa è l'apertura del Corriere, in palestra si sta più stretti, lunedì il calendario delle assegnazioni, rapporti e orari ridotti per le società sportive. Ma la fotonotizia è per il murales fanese, vandali contro il murales antistupro, strappate lettere minigonna dell'opera che racconta un abuso, femministe scendono in campo, la creazione attira l'attenzione del sottopasso ferroviario. Poi scuole a rischio sicurezza, i genitori vanno in procura, siamo in San Giovanni Marignano per la salute dei propri figli e quindi insomma questa è la pagina di apertura del Corriere Adriatico, vediamo quella del resto del Carlino, a fotonotizia centrale è per un master della gastronomia pesarese, la pizza Rossini, ecco come è nato, un simbolo cittadino, il pasticciere svela le origi di questa pizza. Ma in evidenza il ROF che segna un'edizione da record, si pari sul quarantennale e per il 2020, il 2020, tante le sorprese, un'edizione da record. Quindi però c'è politica anche, si parla dell'apertura della festa DEM, c'è Zingaretti in programma, poi Tribunale del Malato che vigila sulle liste d'attesa e di spalla scaramucce politiche, siamo a Fossombrone tra l'assessore e il sindaco. Allora entriamo nel dettaglio delle pagine, vediamola, questa storia della Rossini, la pizza Rossini è nata per un caso, come spesso avviene in gastronomia e per tante ricette, come anche quella della panettone, nate quasi per un'esigenza così per rimediare le cose oppure per un'intuizione casuale e poi diventano dei capisali della gastronomia. Remo Fiorani, il gourmet dice l'idea durante una pausa nella pasticceria di Gnassi. Questa è un po' la storia della pizza, leggetevela se siete golosi di questa pietanza. Festa PD, atteso Zingaretti, anche per tanti motivi che stanno attraversando la scena politica nazionale. I DEM lasciano la piazza e scelgono la zona del conservatorio. Questi gli ospiti, naturalmente Zingaretti e poi c'è Carlo Calenda e arriverà anche Ferruccio De Bortoli, il giornalista che presenterà il suo libro. C'è cronaca anche nelle pagine del Carlino, intervengono le volanti della polizia, ruba una borsa ma viene rintracciato, denunciato per furto un romeno di 20 anni, rinvenuta la refurtiva nel suo alloggio. Liste d'attesa, abbiamo visto dalla prima pagina, il Tribunale del Malato sorveglia e vigila, monitoraggio congiunto con Asur, dicono cerchiamo di ridurre tutti i disservizi per i pazienti, diritti e doveri, anche il cittadino ne ha, se non rispetta l'appuntamento allora deve essere multato, quindi tra i doveri di un cittadino c'è anche quello del rispetto delle regole per non creare problemi a altri pazienti. Le palestre, entriamo nelle pagine del Corriere Adriatico, pochi spazi e ore razionate, tagli per le società sportive, ancora out, ancora insomma non agibile il vecchio hangar, le cose si complicano però per la gestione degli impianti pubblici. Lunedì verrà emesso il calendario ufficiale, ma il ritardo nella compilazione non lascia grandi speranze, vuol dire appunto che ci sono problemi per fare incastrare tutte le tasselle, tutti i tasselli di questo puzzle delle società sportive e degli impianti. Tasse comunali, evasione da 2,5 milioni, il Limo è la fetta più consistente del buco, siamo sempre a Pesaro, l'assessore delle noci dice l'attività di recupero funziona perché abbiamo messo in bilancio 400 mila euro, ma saranno di più, quindi insomma evasione anche su questo fronte. Rimaniamo su Pesaro con il Corriere Adriatico, fa l'identikit del ladro, istinto di osservazione e particolari riportati a colui che fa l'identikit e la polizia lo prende ancora con la refurtiva fondamentale, la denuncia della donna e appunto il suo spirito di osservazione e quello che dicono dalle forze dell'ordine segnalate sempre. Andiamo nella pagina che riguarda le Marche perché vi faccio vedere una notizia, è successo ad Ancona, purtroppo succedono anche di queste cose quando i soccorritori passano dall'altra parte, mettono in gioco la loro incolumità, spesso anche la vita per la salute di tutti e un medico cade, siamo ad Ancona, sugli scogli per salvare una bambina disabile in carrozzina e lui stesso finisce al pronto soccorso, stava cercando di bloccare la carrozzina che si era sfrenata e quindi insomma sugli scogli non è proprio il massimo della vita cadeci. Apriamo le pagine di Fano, Corriere Adriatico, partono i lavori di manutenzione per asilini, nido e scuole di infanzia, il Comune investe 167 mila euro l'apparto assegnato a una ditta vadese, qui siamo nella ex scuola elementare Torricelli a Sant'Orso e quindi insomma buone nuove per le strutture pubbliche dove vanno i nostri ragazzi. Fano, sempre per il Corriere, la notizia che avete visto anche in apertura, vandali contro il murale antistupro, stappate lettera e minigonna rossa, gruppo femminista però ripristina la creazione nel sottopasso della stazione ferroviaria, questo è il murales che potete trovare appunto se andate nel posto e che appunto è stato oggetto di vandalismo. Cambiamo testata, resto del Carlino, ex dipendente Asur stangato dalla corte dei conti, malato di slot, rubò l'incasso del poliambulatorio e simulò una rapina, dovrà ridare il doppio. Che cosa è successo? È successo nel 2014, prese dalle casse dell'Asur, 34 mila euro per giocare alle slot machine e per giustificare la sparizione dei soldi si inventò una finta rapina, poi però messo alle strette confessò tutto e patteggiò due anni. La vicenda del frate Murato che tanto sta appassionando e infervorando questo fine estate fanese, altro enigma, adesso sembra che non sia stato mai beatificato, si arricchisce di dettagli il giallo di Santa Maria Nuova, intanto a settembre dovrebbero partire le verifiche da parte del Comune. Allora come ha detto i nostri microfoni il custode della Chiesa ed in questo momento padre Mandolini è un po' si dice perché lo stesso padre Bracci racconta nel libro che viene preso riferimento per questa storia che la vicenda e i particolari gli sono stati riferiti dall'ex custode del tempo e quindi insomma non c'è una certezza di questo come giustamente ci ha detto. Poi ci potrebbero essere anche dei risvolti igienico-sanitari coinvolti anche altri enti, ma adesso salta anche fuori la storia che non è detto che questo frate franese scrive ancora lo stesso padre Bracci pur denominato Beato non è mai stato riconosciuto dall'autorità ecclesiastica perché non è stato mai promosso un processo di riconoscimento del culto da parte dell'autorità. Insomma si infittisce il giallo a tutto vantaggio di questa fine estate, un po' smosso da questa vicenda. Tragico schianto in moto, oggi l'addio al giovane papà, oggi alle 15.10 funerali del 37enne Luca, Luca prima morto in un tragico incidente in moto a Castiglione del Lago. Tamponato in auto è gravissimo, siamo a Trecastelli, San Costanzese ferito, tamponato, vedete qui le condizioni della sua auto, l'altro automobilista era positivo all'alcol test. in località Ponterio, quindi nella strada cesanense, la 424, tre mezzi coinvolti, un'autocisterna, la vedete qui parcheggiata, tre automobili, insomma un incidente che ha messo un po' anche ai ferri corti la viabilità ieri in quel punto. Vediamo che cosa succede nelle nostre vallate, partiamo da Vallefoglia, grandi eventi accadono con Appennino, è una sveglia, quindi insomma un'iniziativa per promuovere turismo lento e ambiente e cultura in quattro comuni belli ma ignorati. Questa è l'iniziativa, la nuova iniziativa presentata in provincia per valorizzare anche borghi un po' meno conosciuti ma comunque ugualmente belli. Dalla Valmetauro lavori per l'ospis, i lavori per l'ospis bloccano però i servizi, siamo a Fossombrone. Da settembre con l'avvio del raddoppio dei posti letto, da 10 a 20 sospese le sedute di endoscopia e colonoscopia. Il sindaco Bonci dice saranno occupati però i locali dall'equip di Attali, mentre quelli nuovi ancora devono essere approntati. insomma quindi ed eccolo qui Bonci per la scaramuccele in politica che sta avvenendo nel comune, scambio al vetriolo tra appunto il sindaco e l'assessore, divergenze sulla gestione di un campetto e quindi insomma questo Bonci ha detto no e della Felice invece sostiene la società, quindi braccio di ferro tra i due amministratori. Ancora nelle pagine che riguardano l'interno, ritorniamo sul Corriere Adriatico, sul palco Nove Band Laurentine, uno show per 30 musicisti. Oggi e domani siamo a San Lorenzo in campo, ai giardini pubblici, la manifestazione che segna il legame con le sette note e quindi la città. Quindi ancora scampoli di avvenimenti in questo fine estate, ce ne sono, seguiamoli a Urbino, vi porto nelle pagine di Urbino dei due quotidiani, il Corriere Il Resto di Carlino apre con CNA ed è in moda che è stata presentata ieri in comune la sfilata all'ombra dei Torricini, svela le novità e gli eventi previsti per sabato 31 agosto nel cuore di Urbino, quindi un panorama del comparto produttivo della moda della provincia pesarese. Sfrutta per il Corriere Adriatico, il titolo è questo, sfruttata l'opera di Paolo Volpini, la figlia Caterina contesta l'uso del titolo sipario ducale per il teatro a corte della festa del Duca, ignorata a Urbino la memoria del grande intellettuale del Novecento per il venticinquesimo della sua morte. Vedete qui in una foto Paolo Volpini che morì nel 1994, lettera in replica al direttore Pugliani, dice già comunicate la contrarietà, valuterò, quindi la contrarietà appunto della figlia e valuterò anche un'azione legale. L'ultima pagina è quella di Senigallia che ci porta appunto sul fronte sanitario, niente raggi, pronto soccorso in trincea, lunghi viaggi tra le corsie per i pazienti e quindi insomma è un calvario in certi momenti, per gli esami, gli infortunati del pronto soccorso pensate devono essere portati a radiologia dall'altra parte dell'ospedale, impossibile misurare la pressione a chi arriva al triage, c'è soltanto un termometro, insomma quindi sono veramente un po' ai ferri corti nell'ospedale di Senigallia per quanto riguarda il pronto soccorso. In chiusura come sempre vi mostriamo le pagine di apertura per il Corriere Adriatico e per il vecchio Angar che è indietro con i lavori di ripristino, quindi in palestra si sta più stretti perché si è costretti a fare i conti con le società e con le strutture disponibili. A Fano vandoli contro il murales antistupo, scuole a rischio sicurezza a San Giovanni Marignano, i genitori vanno in procura, presentato un esposto e invece per il resto del Carlino fotonotizia centrale per la pizza di Rossini, la storia come è nata, un ROF invece che sfiora l'edizione dei record, il terzo di sempre per numeri e per il 2020 presentate tante, quindi per il 2020 tante novità. Attesa per l'arrivo di Zingaretti alla festa dei Democratici, il Partito Democratico, il Tribunale del Marato poi in alto vigila sulle liste d'attesa naturalmente nel rispetto delle regole e poi di spalla, come avete visto prima, scaramucce politiche a Fossombrone tra sindaco e il suo assessore. Bene, queste erano le notizie principali che abbiamo preparato per questa mattina, grazie per essere stati in nostra compagnia, Occhio ai giornali tornerà lunedì mattina puntualmente alle 7, questa sera non c'è il telegiornale Occhio alla Notizia ma c'è il nostro magazine 7 per Occhio, ma il nostro numero è sempre attivo per le vostre segnalazioni. Grazie e buon fine settimana. A tutti voi, arrivederci.